e poi iniziamo con la schiena so che in molti sarete invidiosi della mia amica però lei si lamenta sempre faccio un attrezzo grazie ok, grazie e li portiamo da una parte un po' il collo libero e comincio con un po' di scratch con le mie unghie sulla parte superiore della schiena che secondo me è sempre con un po' più sensibile ai grandini hai presi e perché si stesse chiedendo perché sto parlando a bassa voce? la risposta è che questo è un video A S M R quindi questo è un video con lo scopo principale di provocarti i famosi privedini quelli che ad esempio si possono provare o si provavano quando da piccoli ci facevamo i gradini della schiena così ok 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 adesso adesso prima di provare a scrivere un po' di parole facciamo un po' di disegno facciamo un po' di e ok 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 lo sole con tanti tanti raggi e una nuvola e una nuvola come oggi mi sentivo un po' monovoloso un soleggiato monovoloso ok ok temo qua il piedi no non 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 ti piace? si ok adesso proviamo con qualche parola ovviamente cominciamo con relax per essere molto scontati e l a x e 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 poi abbiamo ci scherzo una specie di la la lento quindi scherchiamo la la lento e 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 ok ora andiamo a fare un po' di brushing anzi andiamo a fare un po' con un massaggiatore e 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 ok allora ho una serie di pennelli ho una serie di pennelli qui e ho scelto questi tre super morbidi uno due e tre e andiamo a fare un po' di brushing e 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 E' super morbido, e vado un po' prima sui contorni della schiena, in questo modo. E poi vado a riempire, come se fosse un contro, delicatamente. Ok, tiriamo sul collo, sulle spagne. E giù, e su, e giù, e su. E questo mondo. C'è un po' di sirene, delicatamente. Bene. 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 usiamo anche l'altro queste coperte sono bellissime questo è molto più largo non ho mai capito cosa serve questo pennello tanto a me serve per fare video e piano 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 acostumate seguendo le forme della schiena a me serve per fare video ora andiamo con quello più piccolo e andiamo a fare un po' di scrittura sulla schiena un po' di disegnini cominciamo con un bel triangolo facciamo un quadrato più o meno cancelliamo facciamo un rettangolo cancelliamo facciamo un bel gel cancelliamo questo una casa stilizzata a triangolo abbiamo una porta e due finestrelle le minuti artistiche sono veramente apprezzabili un cammino con del fumo e poi abbiamo l'erba tutta qui una parte un'acqua 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 un'altalena poi facciamo due nuvolette e il sole allora io spero vi siete rilassati con questo video adesso lascio i capelli e vi auguro una buonanotte dopo lo rompo e si spalle ok sciogliamo la trezza e intanto vi auguro una buonanotte una buona giornata spero che questo video mi abbia rilassato mi abbia fatto quasi chiedere gli occhi quasi o del tutto buonanotte buonanotte no buonanotte buonanotte